Quando è nato Marco, ho capito l'importanza dell'ambiente, che è il suo futuro. Così ho cominciato a usare Atlas con la sua formula a base vegetale, perché rispetta di più la natura. Poi, mentre lui cresceva, io scoprivo la forza di Atlas su uno sporco ogni giorno più difficile. Oggi sono sempre più convinta che Atlas è la scelta giusta. Ho il pulito che voglio e faccio anche qualcosa per il suo ambiente. Atlas, lo scegli per l'ambiente, lo tieni per il pulito. Grazie.